e ciao a tutti ragazzi sono nico benvenuti in questo nuovissimo video siamo qui su battle field one e niente non c'è la metà di questa partita mentre ci vogliono subito ammazzare sti grandissimi stronzi sono appena entrato in mente e niente volevo portare altri video mi sta piacendo il sacco comunque le visualizzazioni se fa ok dai prima chi per noi mentre devo dire che mi sto trovando un casino bene con con la classe supporto mentre che abbiamo fatto la seconda uccisione ci siamo morti naturalmente facciamo così e naturalmente vado a sbagliare grazie oddio la mia classe dov'è vero no dai c'è morto sto figlio di troia devo cambiare assolutamente classe che cazzo porca la puttana sono tutti qui porca merda porca la puttana non va bene non va bene per niente cazzo e non ci muore porca puttana ah di lato va bene così va bene lo stesso non preoccupatevi scendiamo giù non vedo grazie troppo gentile da parte tua ok andiamo un po' alla ricerca di altri grandissimi bastardoni e porca la merda dove cazzo siete ok non so se era per me quella granatuccia porca miseria sto troppo un'aria aperta mentre qua ce ne sono due vi prego non guardatemi porca puttana ok dai con l'altro avanti non girarti non ti girare non ci muore cazzo merda merda da dietro merda da dietro merda ricarica ok 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 dai che vieni qui dai che vieni qui cazzo avevo troppa poca vita facciamo anche una bella conquista sono qui nel carro armato che peraltro se in questo gioco se riesci a prendere il carro armato fai stragi pazzesche per esempio questo 32 0 va bene va benissimo ok abbiamo catturato qui non ci vedo un gran cazzo di niente non è vero non va bene niente perché ci siamo accappottati accappottati dai meglio oh porca merda lì ce n'è un altro allora quello è un carro armato no non è un carro armato porca puttana wow lì c'è uno ci vorrebbe un bel cecchino qui no vabbè impossibile allora 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 corriamo corriamo velocissimo perché quello ci sta mirando porca merda porca la merda da dove da dietro ok ecco ne ho una ma come cazzo lo uccido bella domanda allora dai che stai vicino porca la merda ti pari la logica quello se mi vede mi uccide troppo facilmente vabbè ci manca anche l'elicottero naturalmente l'aeroplano l'elicottero oddio oddio one shot grande così grande così dai prendiamo questi cazzo prendiamo questi prendiamo questi no dai o uno è sceso andiamo a prendere cazzo è uscito anche questo muori grande così qui ce ne dovrebbe essere un altro mi stanno mirando oddio ce n'è uno qua sotto oddio dai fatti vedere porca puttana porca che cazzo ho fatto ma se non stavo davvero un cretino stronzo qualcosa madonna oddio eccolo grande così ok qui c'è il gas quindi dobbiamo mettere questa cosetta qui questo è morto morto stecchito quindi ok non c'è nessuno dietro oddio eccolo lì ci muori grande così andiamo a qui dovrebbe esserci il mitragliatore grande così andiamo a comandare così porca puttana mi devo avvicinare per forza dai fatti vedere fatti vedere stronzo grande così ok c'è un altro nemico però c'è un altro dove cazzo ok è morto vaffanculo oddio oddio non mi prendere come cazzo mi ha preso dai ero passato porca la puttana mia 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 che cazzo non li riesco a prendere e guarda ma porca la puttana Eva dove cazzo siete porca puttana aveva anche il mitragliatore meno male porca puttana ok andiamoci da qui che non ha vita andiamocene e prendiamo questa e andiamo un attimo su mi serve quella cazzo di arma assolutamente tanto aspettate aspettate aspettami lì non ci morire cioè morici cazzo porca puttana grande così dove cazzo sta la macchina oddio se ne è fuggita la macchina macchina dove sei macchinetta dove cazzo sei non c'è più la macchina ma porca merda boh io boh non ti permettere grande amico grande dimmi che l'arma c'è dimmi che l'arma c'è eccola lì oh mio dio oh mio dio oh mio dio grande così oh mio dio grande così ok per usarla devo mettere così e porca puttana diciamo che ho perso la mia arma preferita facendo un fail della madonna minchia F chi cazzo no no il carro armato voglio il carro armato assolutamente oddio adesso si che andiamo a comandare dove cazzo siete e beh allora conquistiamolo mettiamoci in una posizione adeguata no non va bene per niente no ti ho visto stronzo non ti permettere di fuggire adesso sei una mia preda oh cazzo non c'è morto ok che cazzo hai lasciato la terra ma sei un pezzo di merda la dinamite vaffanculo ok ho anche il carro un po' danneggiato ma sti gran cazzi vediamo qui se si spacca mamma mia che devasto oh aspetta chi cazzo è mamma mia un altro oddio oddio no uccidi qualcuno oddio con tutti questi strunzi grande Nico però ce n'è uno qui ce n'è uno qui porca merda dai prendi questo e porca puttana mi sta facendo il culo quell'altro caro armato no e dai lasciatemene qualcuno a me porca puttana ma dove cazzo da dove da dove oddio oddio ok oddio ok oddio 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 cazzo ok cazzo ok ok cazzo muori muori male oddio oddio il devasto vai che questo è mio vai che questo è mio grande così dai Nico abbiamo un caro armato abbiamo un altro qui ce n'è uno è morto porca puttana dove cazzo siete eh si vai ci voglio provare no cazzo troppo alto dai ce n'era uno lì porca merda chi cazzo è questo abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso eccolo eccolo grande madonna che kill all'ultimo secondo perdiamo ma almeno una bella kill all'ultimo secondo con un punteggio 17-8 dai buona partita questa mentre terzo gameplay in commentary terza sconfitta chissà come mai quando non registra escono le migliori partite vabbè rega conquista direi con questo è tutto se vi è piaciuto lasciate un like commento iscrivetevi al canale da Nico è tutto ciao a tutti